Ok ragazzi, io non ho capito niente. Questo gioco mi sta facendo scoppiare la testa. Adesso ti mostrerò alcune parole colorate. Quello che dovrai fare è pronunciare ad alta voce il colore che vedrai nel testo. Solo il colore, non la parola. Se per esempio compare questa immagine, bisogna pronunciare la parola verde. La challenge è un po' difficile, quindi iniziamo lentamente. Perché io non ci ho capito niente, ve l'ho detto. Ok, questa era facile. Adesso aumentiamo la velocità. Ve l'ho detto, non ci sto capendo niente. Se sei pronto a fare il livello finale, metti like a questo video. Ok, andiamo. Ok ragazzi, io non ci vedo più niente. È stato un piacere. Se anche la tua testa è scoppiata, fammelo sapere nei commenti. Ci vediamo alla prossima.